Ciao a tutti ragazzi, sono MattBoy120 e questo è un piccolo video per aggiornarvi della programmazione del canale Non l'ho detto in un gioco perché ci si poteva distrarre più facilmente da quello che dicevo appunto nel gioco mentre giocavo Quindi ci sarà una programmazione di un video al giorno, due serie si ripeteranno per due volte alla settimana Tutti i giorni ovviamente i video, se riesco, se ho qualche impegno vi avviserò Allora, lunedì ci sarà Terraria Martedì piante contro zombie Mercoledì Sparta 2 Giovedì Terraria Venerdì Cube World Sabato, Sparta 2 E domenica, ci sarebbe stato Totten Tribe Ma, praticamente, visto che Totten Tribe non è una serie molto seguita e non molto apprezzata Proverò la domenica a fare dei giochi che ho, cioè altri giochi che ho per proporvi un'altra serie al posto di Totten Tribe Poi vi farò vedere alcuni giochi, uno alla settimana appunto per un totale di due o tre giochi E poi vi chiederò di scegliere qual è quello su cui volete che io faccia la serie Potete anche dirmi di continuare Totten Tribe, per me va bene lo stesso Avevo detto che facevo due volte alla settimana Cube World Ma, visto che Sparta 2 è uno dei giochi che vi piace di più, anzi è il gioco che vi piace di più Ho deciso di alternare la serie di due episodi alla settimana Quelle che... una che piace a me particolarmente e una che piace a voi Per bilanciare un po' le cose Allora, Terraria è una serie che piace moltissimo fa... che mi piace moltissimo fare E so che anche se alcuni di voi non piace e dicono tutte queste cose qui, la guardate lo stesso Per chi segue assiduamente il canale Sparta 2 è il gioco che mi avete chiesto di fare in più Quindi l'ho fatto due volte, il mercoledì e il sabato Mentre Piante contro zombie e Cube World sono delle serie secondarie sul canale Così come la serie che farò la domenica che sarà qualcosa di molto più tranquillo rispetto alle altre E basta, non ho altro da dirvi Se vi chiedete perché sono sulla schermata di Terraria è per due motivi Uno è il fatto che dopo di questo piccolo video farò il video di Terraria Perché la programmazione comincerà, partirà il coso della programmazione da domenica 27 Quindi si comincerà subito con il video del cambio serie E poi si andrà avanti così Ehm... bene Oggi quindi è sabato 26 e questo video... cioè uscirà un video di Terraria Che non comprende nella programmazione Allora vi ripeto un'ultima volta la programmazione Lunedì c'è Terraria Martedì c'è Piante contro zombie Mercoledì Sparta 2 Giovedì Terraria Venerdì Cube World Sabato Sparta 2 E domenica il cambio serie Detto questo vi auguro che vi piaccia questa programmazione L'ho fatta in base ai miei impegni E... ciao a tutti e al prossimo video